Siamo con Renzo Olivieri, presidente dell'Asso Allenatori, per analizzare il calendario della Serie A. Tra le altre, sembra un calendario in salita per il Milan, che dovrà affrontare alla prima la Lazio, poi in trasferta il Parma, quindi alla terza la Juventus. Un calendario in salita anche alla luce dei risultati di quest'estate per le amichevoli, per quanto riguarda le amichevoli dei rossoneri, che sono sembrati mettere un po' in crisi la squadra di Inzaghi. Ma io direi in salita un po' anche per la Fiorentina, non è che ha un campionato agevole subito. Poi tante volte facciamo valutazioni di questo genere, poi dopo la verifica del campo poi ti dà anche delle risposte diverse da quelle che ti aspetti. Il calcio d'agosto conta poco, comunque il calcio d'estate. Il calcio d'estate conta poco, conta poi quando inizia il campionato. In fase di preparazione può succedere di tutto, si può intravedere qualcosa, però dipende da come uno lavora. Mi ricordo tanti anni fa che ero venuto su con la Sampdoria, ero in ritiro, ho lesso il calendario, la prima in casa con la Juve, la Juve stellare di Platini, poi a Milano con l'Inter, poi in casa con la Roma. Ho penato tanto per arrivare in Serie A, ci sto tre domeniche e poi mi mando via. Il pensiero era questo, no? Le vincemmo tutte e tre, finimmo in testa della classifica, andiamo per un po' anche sui giornali. Per cui il calcio fortunatamente anche oggi porta anche delle stranezze, nonostante che vogliano trasformare in un'industria solamente. In questa mercificazione io credo che il calcio conservi ancora contenuti importanti, parlo di contenuti umani, parlo di situazioni che si possono capovolgere da un momento a un altro in una partita, basta pensare alla partita in casa l'anno scorso della Juventus-Fiorentina, il calcio è bene anche per questo. Fino a che rimarranno questi episodi sarà un bel calcio ancora. Proprio per quello che stavi dicendo, non deve preoccuparsi neanche la Juventus che ha perso contro i direttanti e quindi potrebbe essere un campanello d'allarme questo? No, anche perché aveva una squadra fatta di tanti giocatori che erano in partenza, quindi le motivazioni possono mancare. Però insomma sono segnali, sono segnali che bisogna capire, che bisogna percepire. Sta all'aneatore, a chi dirige, credo che Allegri sia stato sul pezzo, proprio in base a quella prestazione, perché quando sei a vestire certe maglie dei doveri li hai comunque, anche se giochi contro squadre direttanti. Senza entrare nei dettagli della conferenza stampa che terrai domani sulla questione FIGC, sulla questione Tavecchio e Presidente Federale, comunque in generale toccherai quali punti? Ma c'è una questione che riguarda il candidato, il candidato Tavecchio e i due candidati, perché se vogliamo essere seri credo si debba fare anche un confronto. Poi c'è una questione di programmi e quello credo che sia una cosa importante, la valutazione sui programmi. Poi dovremmo fare anche una valutazione su chi sostiene queste candidature, vedere se possiamo cercare, se si riuscirà a far cambiare idea a qualcuno di quelli che sostengono. La campagna elettorale serve per questa, perché a prendere i voti dalla nostra parte lo sappiamo che ce l'abbiamo, si spera. L'importante è andare a prenderli dall'altra parte, ma con serietà, spiegando i programmi, spiegando che conviene di più fare così. Il senso è quello di fare cose insieme, non lo potremo fare comunque, però l'idea è quella di fare cose insieme.